L'escalation di episodi violenti che si stanno susseguendo da diversi giorni è un segnale preoccupante di un momento senza precedenti. È il commento del presidente di Sistema Ambiente, Matteo Romani, all'indomani della violenta aggressione avvenuta ai danni di una dipendente della società di gestione dei rifiuti, che mentre svolgeva il proprio lavoro al front office è stata presa a calci da un utente che si è avventato contro di lei, scagliandole anche addosso un sacco di spazzatura. Il motivo del gesto brutale? Non gli era stata ritirata l'immondizia perché, spiega Sistema Ambiente, contenente materiali non conformi, tanto è bastato dunque a scatenare l'attacco di rabbia e violenza. La dipendente è anche caduta subendo contusioni e si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso. Episodi di questo tipo ce ne erano già stati, ma preoccupare è la frequenza con cui stanno avvenendo in diversi casi, anche ai danni degli operatori ecologici. Ultimamente sono cose che stanno accadendo anche in altri contesti, ho visto le poste al tribunale, quindi è un segnale abbastanza preoccupante di quello che sta succedendo in questo momento. Il Sistema Ambiente fa quello che ha fatto anche in altre occasioni spiacevoli che sono successe di aggressione di operatori, quindi garantirà la tutela legale al dipendente, ha già attivato gli uffici legali e in più chiaramente si costituirà parte civile nell'eventuale procedimento. I sindacati che hanno denunciato il fatto chiedono all'azienda uno sforzo comune per impedire che episodi come questo si possano verificare di nuovo, visto il momento già complicato che gli operatori si sono trovati ad affrontare nel servizio a causa della pandemia. Un po' abbiamo fatto fronte a questo aspetto, sapete, con l'assunzione di una ventina di persone, ma comunque le assenze dovute prevalentemente a quarantena e malattia stanno rientrando, perché comunque il contagio, lo sappiamo tutti, si sta riducendo per fortuna. Quindi la situazione è abbastanza sotto controllo, anche perché comunque abbiamo inserito queste 20 persone, poi ora comunque ci sarà tutta la programmazione del periodo feriale, summer festival, ma speriamo tutti di ritornare a vivere un po' di normalità, quindi anche i nostri operatori a lavorare di conseguenza.